Bentornati su MyFootballJersey. Quella che vedete è la maglia della Juventus con la quale vinse l'ultima Champions League del 1994-95. In versione fan, questa è la seconda maglia, una maglia che per celebrare l'evento ho preso di uno dei miei canciatori preferiti dell'epoca, che era Vialli. Grazie a tutti. La maglia è molto bella, non spettacolare dal punto di vista estetico, ma riportando alla mente quel periodo fantastico per i colori bianco-neri è una maglia che, se amate questa squadra, dovete sicuramente avere. Molto belli i colori, brillanti, mi hanno stupito molto, e molto belle le rifiniture. Il corso l'avete visto, che altro aggiuntere? Ora vi lascio la parte finale, vi ricordo di mettere un grande like e di mettere nei commenti le vostre impressioni, se vi piace, quali altre maglie vorreste vedere. Per oggi è tutto, alla prossima!